benvenuti nella sesta stagione della rubrica risolvi problemi dei film dove recensiamo brevemente 21 film dalla a alla z al film di oggi è la promessa dell'assassino cominciamo film di david cronenberg con vigo mortensen naomi watts vincent cassel del 2009 un'ostetrica dopo che la madre della bambina che ha fatto nascere muore inizia ad indagare e per sapere a chi affidare la bambina chiede di far tradurre il suo diario scritto in russo nulla andrà come previsto l'opera inizia con due sequenze molto forti emotivamente che fanno immergere immediatamente lo spettatore nella drammatica e appassionante vicenda la protagonista vorrebbe sin da subito prendersi cura della bambina orfana per colmare un vuoto dettato da un aborto spontaneo quasi come per espiare la colpa di aver causato una morte lei che con la sua professione di ostetrica permette di far nascere invece nuove vite e che quindi è a maggior ragione spinta da un materno senso di accudimento il personaggio interpretato da vigo mortensen splendidamente caratterizzato è un autista barra aiutante di kirill figlio di uno dei boss della mafia russa che sembra avere un suo codice morale ma che non si tira indietro quando c'è da sporcarsi le mani interessante notare le similitudini tra il personaggio in questione e l'autista di limousine interpretato da robert pattinson nel capolavoro maps to the star stesso attore che in cosmopolis interpretava un ricco broker che passava la giornata proprio dentro la sua limousine ma non come guidatore questa volta entrambi gli autisti usano il proprio mestiere per mettere in atto una scalata al potere e arrivare sempre più in alto qui lo scopo è arrivare a toccare i vertici della mafia russa mentre per pattinson si tratta del mondo di hollywood non meno pericoloso e marcio secondo cronenberg la suspense si basa sulla paura del pubblico che il mondo criminale possa interferire con brutale violenza nella vita privata e nella famiglia del personaggio interpretato da naomi watts simile in questo il film a history of violence dove anche lì la tensione nasceva dalla paura di vedere la propria famiglia distrutta dai meccanismi di sanguinosa faida della criminalità il film è colmo di rapporti tra genitori e figli dolorosi o infranti abbiamo come già detto il personaggio di anna che vorrebbe ardentemente diventare madre il coprotagonista nicolai che come esplicato nella splendida sequenza dei tatuaggi rinnega i suoi genitori e afferma di vivere nella criminalità sempre in uno stato di distacco dall'età di 15 anni e kirill che soffre di come il padre lo consideri sempre di meno a livello umano e lavorativo nel mondo descritto da cronenberg ognuno opera per se stesso e non per un moto di altruismo calzante la figura di nicolai che aiuterà anna non per amore nei suoi confronti forse presente ma subito represso nel finale ma per il proprio tornaconto e per raggiungere l'obiettivo agognato entrambi i protagonisti sembrano realizzarsi nell'epilogo anche se distanti e sotto le spoglie di un falso lieto fine si nasconde una non idilliaca verità affascinante la descrizione della subcultura della mafia russa e dei suoi tatuaggi che raccontano il vissuto di un uomo infatti come città una battuta senza tatuaggi non sei nessuno la violenza è ferata meravigliosa al contempo impressionante la sequenza del combattimento nella sauna e il perfetto ritmo rendono la pellicola incalzante nonché immersa in una cupa atmosfera drammatica e a dir poco travolgente uno dei picchi più elevati della strabiliante carriera di Cronenberg voto 10 di Cronenberg voto 10